Nel 1976 la Corte Costituzionale sancisce la libertà d'esercizio per le reti televisive locali private via etere, 4, favorendo lo sviluppo del modello televisivo commerciale. Nello stesso anno la Fininvest di Silvio Berlusconi acquisisce Telemilano, una delle prime emittenti locali in Italia, che aveva iniziato da poco a trasmettere via etere a livello nazionale. Telemilano era in crisi finanziaria per il mancato pagamento dell'affitto dei locali in cui sorgeva, di proprietà della Edilnord dello stesso Berlusconi, che l'acquisì per una cifra simbolica oltre al condono dei debiti 5, 6. Dal 1974, anno della sua fondazione, al 1976 Telemilano aveva trasmesso programmi via cavo come emittente locale esclusiva del nuovo centro residenziale di Milano II, realizzato negli stessi anni dallo stesso Berlusconi, e situato nel comune di Segrate Lutto a Mediaset. È morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hairstylist delle nostre star, e per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali. Silvia avrebbe compiuto a breve 43 anni. La direzione e la redazione di TG Con24 si stringono alla famiglia e al compagno Marco in questo momento di dolore.